Buongiorno, benvenuti carissimi telespettatori a questa nuova settimana dedicata all'informazione che come sempre inizia alle sette e mezzo del mattino con i giornali. Sfoglieremo tra poco i due quotidiani con gli inserti pesaresi, il resto del Carlino e il Correa Adriatico, daremo uno sguardo alle previsioni del tempo, ma il santo di oggi perché oggi dobbiamo fare gli auguri a tutti i pesaresi che festeggiano il loro santo patrono perché oggi è San Terenzio e adesso il nostro regista Riccardo Sora ci fa vedere il cartello con l'immagine di questo vescovo che risale al 200, intorno al 200 dopo Cristo, quindi siamo veramente indietro nel tempo. Il sole è sorto alle 6.56, tramonterà alle 19.05, ma attenzione perché dopo questo settembre da incorniciare, da mettere veramente nell'albo dei settembre più belli, forse più estivi degli ultimi decenni, insomma adesso arriva il cattivo tempo, arriva soprattutto il fronte freddo perché peggiora sulle regioni orientali, cioè le nostre regioni, le regioni driatiche, le temperature scenderanno in picchiata tra martedì e mercoledì, ma andiamo a vedere nel dettaglio perché per oggi, per esempio dalla tarda mattinata intorno alle 11, arriveranno i rovesci o temporali sparsi in rapido movimento da nord verso sud, quindi attenzione perché tra poco inizierà a piovere, perché ci segue in diretta alle 7.30. Temperature minime dicevo, lieve aumento, mentre le massime sono in diminuzione, ma attenzione anche ai venti, ci soffermiamo un secondo in più sui venti oggi, perché si disporranno repentinamente da nord-est, quindi la bora, arriverà la bora, vento fresco, raffiche fino a burrasca forte lungo la fascia costiera, quindi insomma tenetene conto di questo. Chiaramente il mare sarà poco mosso il mattino, ma il moto ondoso in rapido aumento fino a molto mosso nel pomeriggio. Domani però il tempo cambia, vedete martedì 25 settembre, il cielo sarà di nuovo sereno, poco nuvoloso, le temperature però saranno in diminuzione, i venti sempre nord-orientali con raffiche fino a vento forte lungo la costa, quindi avremo diversi giorni di vento forte tra oggi e domani e il tempo resterà comunque soleggiato per il resto della settimana, però insomma il caldo a cui ormai eravamo abituati in questi mesi estivi comincia appunto, andrà via e speriamo che andranno via con il caldo anche le zanzare. Allora adesso invece andiamo a salutare, andiamo no, facciamo vedere questa fotografia che ci arriva, una delle tante che ci arrivano al mattino perché ormai avete preso questa bella abitudine di farci vedere queste albe che aprono il cuore. Qui siamo su Lucrezia Alta, dalle parti forse di Cartoceto, comunque la parte alta è di Lucrezia, questo sole che sorge e che ci vuol augurare insomma una buona settimana. E a proposito voglio salutare questo gruppo di cuochi che ieri sera ha cucinato straordinariamente, sono tutte persone che ci seguono al mattino, seguono sia la Rassegna Stampa che il telegiornale, i programmi di Fano TV, insomma ieri la nostra troupe era alla festa dell'Apav che è una società di pallavolo, ha festeggiato i vent'anni di fusione tra Lucrezia e Calcinelli, ebbene grande festa per la troupe di Fano TV e quindi gli abbiamo voluto omaggiare questa foto tutti insieme. Allora andiamo adesso a vedere i giornali, parlavamo del sole, di questa estate lunghissima, il sole sì ma gli ombrelloni no, questo è il titolo della fotonotizia del resto del Carlino, proteste per gli stabilimenti quasi tutti chiusi nonostante un settembre, dicevamo, caldissimo. Notte di paura invece nella palazzina, un uomo minaccia tutti e poi precipita giù, cinque torri a Pesaro, turbolenta, lite in famiglia, moglie e figli chiamano la polizia, lui però ubriaco reagisce con un coltello, poi tenta di fuggire dal terrazzo ma cade da un'altezza di 6 metri e questa caduta gli ha procurato delle ferite. Lo Sport invece sempre sul Carlino, Vis buona la prima, Gubbio in vantaggio, poi doppietta di Olcese, alla fine la Vispesero vince 2-1 al Benelli con l'esultanza dei tifosi. Ma dicevamo, di questa stagione che non finisce più, qualcuno ci crede ancora, dice ho messo ombrelloni in più, controcorrente Claudio Casuli, zona 27 a Pesaro, io vado incontro ai clienti, dice lui, e anche se le autorizzazioni parlano di chiusura la prima domenica di settembre, dice io vado avanti, l'apertura, Andrea Giuliani dell'associazione di categoria, dice l'apertura può essere prolungata ma non possiamo dare la colpa ai suoi bagnini se chiudono, manca un piano tra operatori e il comune, bisognerebbe unire un po' le forze ma tra chi ha chiuso per esempio ai bagni rene c'era solo la bagnina, non c'erano però né ombrelloni né lettini, a dire il vero i lettini ce n'erano uno solo, quello occupato dalla figlia della bagnina e rene, siamo chiusi perché noi rispettiamo la tabella dell'autorizzazione, dice lei, che autorizza a chiudere la prima domenica di settembre e poi dice insomma tranquilli arriva la Bora, però ieri la Bora ancora non è arrivata però dice lei giustamente, non potevamo mettere gli ombrelloni tenendo conto che oggi arriva la Bora e quindi è un problema tenerli perché poi insomma si rovinano pure. Andiamo sull'altra pagina del resto del Carlino, qui intanto la notizia con tanto di fotografie di questo cane che è stato salvato dalle sabbie mobili, nel senso che era finito in un laghetto dove non c'era l'acqua, però c'era tanto fango, il cane da caccia è finito in mezzo alla malta al fango e non riusciva più a muoversi, così il padrone ha chiamato i pompieri che lo hanno salvato, un lago dicevamo asciutto però molto fangoso nei pressi di Borgo Massano nel comune di Monte Calvo in Foglia. Poi qui la cronaca, minaccia i poliziotti, poi cade dal terrazzo e cacciatori, la polemica che è finita ieri sui giornali quella di qualcuno che diceva insomma i cacciatori mi sparano vicino alle case e adesso interviene l'upus in fabula, l'associazione animalista attacca i due consiglieri regionali, ringraziate Tale e Minardi e poi la notizia del patrono, Sant'Erenzio, processione messa solenne. Andiamo sulla pagina invece di Pesaro Primopiano del resto del Carlino questo è il sottopassaggio che i pesaresi conoscono benissimo uno dei due sottopassi di viale della Repubblica ripuliti, decolorati insomma Ricci, Matteo Ricci, il sindaco di Pesaro dice nei sottopassi è meglio realizzarci i bagni la proposta appunto del primo cittadino credo che come in tutte le città turistiche servano dei bagni pubblici a pagamento che siano sempre tenuti puliti e in ordine in qualche modo Ricci si arrende all'evidenza tenere in ordine puliti insomma questi sottopassi ci sono anche dei pregiudizi quando vado a Pesaro ci passo sempre non sto sopra devo dire che insomma sì ogni tanto qualche odorino di qualcuno che la fa lì quindi secondo me non ha tutti i torti nel realizzare un bagno che sia decoroso decente e pulito a pagamento chiaramente scontro all'incrocio del Lido siamo sulla cronaca di Fano del resto del Carlino ferito un 45 anni in scooter questa è anche la fotografia che i nostri reporter di strada hanno potuto vedere quasi in tempo reale l'altra sera poco intorno alle 23.30 una persona ha pubblicato questa foto sulla nostra pagina Facebook reporter di strada un gruppo che ha 4.800 reporter si tratta di uno scooter dove a bordo in sella c'era un 45enne che poi è finito a terra dopo l'impatto con la Clio ha scritto anche la passeggera della Clio rassicurando tutti quelli che chiedevano come stava il motociclista la donna che era appunto nel lato passeggero di questa Clio ha scritto sul nostro sito sulla nostra pagina Facebook che stavano tutti bene quindi alla fine insomma solo tanta paura e nient'altro andiamo a Pergola anzi Cagli Wenders il regista tedesco che ha ricevuto ieri a Cagli il bronzo dorato alla carriera di Anima V ho visto posti meravigliosi qui la fotografia con lo splendido scenario del furlo e poi sotto i bronzi dorati di Pergola un pubblico entusiasta interminabile applauso per il docufilm sul Salgado proiettato prima di consegnargli il premio e adesso dal resto del Carlino cambiamo giornale andiamo subito sul Corriere Adriatico sempre l'edizione di Pesaro che in primo piano mette in evidenza la notizia di cronaca di quest'uomo che accoglie i poliziotti buttandogli dei secchi d'acqua poi tenta la fuga e cade dalla finestra un cinquantenne ubriaco che ha minacciato gli agenti con un coltello e ne ha ferito uno poi la fotonotizia invece per lo sport la vispesoro che ribalta il gubbio e fa festa Biancorossi sotto di un gol poi entra Olcese che realizza una splendida doppietta potete immaginare quello che è successo allo stadio due a uno ma sempre di sport parleremo tra poco anche e vedremo all'interno Guantoregna parliamo chiaramente del campione della Lube che è impegnato con la nazionale di volley nei mondiali Guantoregna che diventa papà quindi toccate fuga Civitanova dal ritiro azzurro per salutare e dare un bacione grande come una casa insomma a questa nuova piccola e all'altra figlia e moglie naturalmente e poi il Mondolfo che sfiora il miracolo con l'Anconitana sempre l'altra notizia in breve sotto la testata la pagina di Fano invece del Corriere mobilità sostenibile bambini in piazza ma per le biciclette sempre far west comune al lavoro con camminate istruttive nuovi marciapiedi e attraversamenti riverniciati e le ciclabili protette dove sono alcuni momenti di questo evento della settimana della mobilità in piazza 20 settembre la presenza del sindaco di Fano Massimo Serri Vallefoglia invece la Croce Rossa di Montellabate celebra i suoi 25 anni primi 25 anni di attività applausi per l'impegno e la storia del gruppo volontari premiati l'emozione della Mengaci poi da Urbino il campanile decapitato la situazione è davvero pericolosa l'interrogazione di Magnanelli che riporta in consiglio l'emergenza di San Francesco saranno due anni i primi di novembre che il più famoso campanile di Urbino quello di San Francesco non ha più in sommità la sua sfera sormontata da una grande croce e fa un po' compagnia praticamente a quella che invece lo stesso è venuta giù da un pezzo sul cattedrale di Fano la cattedrale del Duomo è l'unica che dovrebbe avere il crocifisso sulla sommità in realtà non ce l'ha più da un po' speriamo che qualcuno intervenga e lo rimetta su Senologia questa è la Valle del Metauro eccellenza unica Bonci e siamo qui a Fossombrone Bonci è il sindaco di Fossombrone e il comitato pro ospedali e salute promuovono il servizio che interessa sette comuni il sindaco plaude alla controtendenza in un nosocomio già spogliato di troppe funzioni questa è la pagina della valle nuova pagina della valle del Metauro mentre questa è la valle del Cesano variante attesa dei 50 anni grande lavoro di squadra Dell'Onti il sindaco di San Lorenzo in campo e Ilari festeggiano per i fondi regionali ottenuti per completare il secondo stralcio e sotto da Mondolfo in consiglio cacciate gioco del pallone col bracciale su recupero e sicurezza arriva la mozione del Movimento 5 Stelle aderire al fondo Mibac e poi svaliggiata un'abitazione in centro a Pesaro il ladro arrestato dai carabinieri la vicina lo vede uscire dalla finestra con due valigie lancia l'allarme Vano però il tentativo di fuga è un ladro italiano che ha svaliggiato l'abitazione di due coniugi marocchini pensate nella notte tra sabato e domenica in un'abitazione di via Venturi dove si è introdotto questo ladro che nel buio e nel silenzio della strada non pensava però di essere osservato l'italiano ha derubato appunto questa coppia appena rientrati da un viaggio in Marocco però è stato colto sul fatto oggi è il santo patrono dicevamo Sant'Erenzio messe e processione le parole dell'arcivescovo Piero Coccia chi ha fede deve operare per la giustizia sociale allora il programma velocemente è questo oggi alle 16.30 c'è la celebrazione dei Vespri alle 17 la tradizionale processione con l'urna del santo di Sant'Erenzio che sfilerà per via Rossini via Marsala via Bertozzini piazzale primo maggio corso 11 settembre piazza del popolo per poi chiudersi in Duomo dove l'arcivescovo celebrerà la Santa Messa e poi c'è l'appuntamento sono appuntamenti anche domani da Senigallia calcio studenti in campo domani il fischio d'inizio le 21.30 cerimonia di inaugurazione al foro dei campionati nazionali un grande evento sportivo dedicato ai giovani che continuano a tenere vita e viva la stagione turistica senigallese in questa seconda metà di settembre con la cerimonia che vede l'inaugurazione domani alle 21.30 prenderanno il via i campionati nazionali studenteschi di calcio organizzati dal Ministero dal CONI in collaborazione con il settore giovanile e scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio o stravetere paure invece per una cantina in fiamme vigili del fuoco in Piazza della Libertà per un rogo che si è sviluppato appunto in questa abitazione inagibile un appartamento lo sport velocemente il Fano il Fano che giocherà contro il Sud Tirol a Bolzano mercoledì alle 18.30 e poi domenica a Fano contro Limolese alla stessa ora quindi ieri non ha giocato ma ci sono due appuntamenti importanti si appresta dunque ad affrontare due impegni ravvicinati con questo campionato in attesa che è partito male lo ricordiamo insomma ha perso all'esordio però speriamo in queste due giornate tra l'altro c'è anche l'incognita dello Stadio Malcini c'è in agenda un sopralluogo oggi per tornare a dichiarare agibile lo stadio divenuto invece off limits di seguito al controllo sulla stabilità della gradinata che è stato compiuto dai vigili del fuoco la settimana scorsa lo stadio è sottoposto ad un intervento di restyling insomma speriamo che si faccia in tempo certo il maltempo non aiuterà da oggi in questi giorni però insomma poi bisognerà vedere visse invece così c'è più gusto il Gubbio rimontato al Benelli a Pesano nel finale con una doppietta di Olcese entrato nella ripresa ritrovato la vittoria ritrovata la vittoria in C dopo 13 lunghi anni passati nei dilettanti vispesero due Gubbio uno questo il risultato dicevamo di Guantoregna Guantoregna che ha festeggiato con un blitz notturno a Civitanova la nascita di Angelica e quindi insomma che dire auguri auguri a questa per questo nuovo arrivo per questa nuova nascita noi ci fermiamo qui la rassegna torna domani mattina alle 7.30 questa sera invece è alle 20.30 cioè il telegiornale occhio alla notizia se avete segnalazioni questo è il nostro numero grazie per essere stati con noi buona giornata a tutti quanti grazie a tutti